Sì, sicuramente, perché i comuni sono fondamentali, sono l'espressione del territorio, sono dei cittadini, sia che siano piccoli che siano grandi, quindi è inaccettabile che qualcuno a Roma o a Firenze possa pensare sulla carta di levare la storia, di levare la rappresentatività e di levare il municipio che è il comune, soprattutto nei territori montani dove se si leva anche il comune non rimane più nulla. Quindi noi siamo qui a dire di no a questo metodo, siamo d'accordo nel spingere le fusioni dal basso con gli incentivi perché se c'è un progetto è giusto che i cittadini votino e scelgano e soprattutto siamo oggi a dire però che forse è arrivato il momento di non parlare solo di togliere, togliere i piccoli comuni, togliere le poste, togliere le scuole, ma forse la montagna e i territori rurali hanno bisogno anche di risposte nel mettere perché sono cittadini di serie A anche loro e hanno bisogno almeno dei servizi essenziali. Ecco in questo evento avete al fianco anche il presidente di Uncem nazionale, avete credo esposto a lui anche quelle che sono le vostre difficoltà, le vostre contrarietà a questi progetti? Sì, Borghi è il presidente dell'Uncem, è in questa linea, è il nostro deputato perché lui è il capogruppo della Commissione Ambiente, è dentro il Parlamento quindi con noi fa una battaglia su questo. Oggi sarà collegato in videoconferenza da Roma, poi noi abbiamo invitato dei parlamentari, abbiamo invitato la regione, dopo forse andremo con una delegazione a incontrare la presidenza della regione perché vogliamo far capire che i comuni montagne e rurali ci sono, sono in Toscana 180 e quindi hanno bisogno di avere un interlocutore, in questo caso l'Uncem, ma di avere un'interlocuzione con la regione e col Parlamento perché se c'è da fare delle riforme facciamole insieme, però a questo punto bisogna ascoltare anche questi comuni e questa gente di queste comunità. Ti chiedo se hai sentito anche nelle ultime ore i sindaci di Abetone e di Cutigliano che sono ad esempio anche al centro della scena. No, io l'ho sentito, loro sono diciamo convinti di andare avanti con la fusione, lì c'è un problema che gente dell'Abetone ha detto di no e quindi lì diventa un problema serio. Io fossi stato al loro posto molto probabilmente quando si decide un percorso come Consiglio Comunale e i cittadini di Candinò si sconfessa quello che diceva, però io scome non sono all'Abetone. Io ho fatto la fusione quando era a fabbrica di Vallico e Vergemoli, sono stato il primo in Toscana insieme a Figline e Incisa e devo dire che sono riuscito a portare a votare il 90% della popolazione e l'80% ha detto di sì. Quindi vuol dire che se ti fai un progetto serio e ci sono tutti i presupposti per la fusione la gente ti dice di sì. Molto probabilmente quando dice di no è perché non crede nel progetto e forse ritiene che la fusione fra due comuni porti a avere delle cose negative rispetto al comune attuale. Quindi questo io penso sia inaccettabile perché la gente ha diritto di decidere. Giurlani, una cosa. Il Partito Democratico ha lanciato lo slogan «La fusione fa la forza». Ora però, secondo lei, c'è uno scollamento tra il Partito Democratico, cioè tra i livelli, i vertici regionali e i sindaci che sono qui in quest'Aula? Diciamo che apparentemente sì. Noi pensiamo che il Partito Democratico, visto che la sua storia è sempre stata una storia legata alle istituzioni, l'abbia fatto un po' per provocare, un po' per stimolare la progettualità locale. Noi siamo dell'idea che non si possa fare sulla carta e quindi bisogna anche stare attenti e soprattutto non si possa pensare di fondere i comuni solo perché si mette dei soldi. Si rischia, come dico sempre io, di drogare il sistema. Se i due comuni o tre o quattro si mettono insieme, ci deve essere un progetto a lunga gittata che dimostri alla gente che la perdita della municipalità è compensata col fatto che quel territorio avrà più servizi, avrà più attenzione e soprattutto che i cittadini saranno ugualmente rappresentati democraticamente. Quindi bisogna stare attenti che quando si mette insieme i più comuni, che di solito quelle montagne rurali sono delle debolezze, non è che più debolezze fanno una forzina ma fanno una debolezza più grande. Quindi bisogna andarci col piede di piombo e se i cittadini decidano è giusto andare. Se i cittadini non decidono, secondo me è giusto fare un passo indietro e quindi lasciare i comuni e in questo caso valorizzare e sostenere i piccoli comuni perché poi sono comuni come quelli grossi, come la città metropolitana e tutti devono avere pari dignità.